Ciao a tutti ragazzi! Io mi chiamo Biancio e bentornati su questo nuovo video, ho 22 visualizzazioni, non mi ricordo bene se erano 20 o 22, sul trailer di Jurassic World 3. Io ho avuto altre idee del fin del 2021 come aiutare i registi come farlo. Ne sono 10, 10 nuovi dinosauri e adesso ve li farò vedere. Jurassic World 3, guardate, ma non sto parlando solo di questo. Ecco il 3. Ed ecco il nostro decimo dinosauro del fin del Jurassic World 3. Si chiama Diablus Rex, cioè Diavolo Rex. Questo è il decimo dinosauro nuovo del trail di Jurassic World 3. Invece il nono dinosauro nuovo è il barionnice, Rudy. Nel film dell'Eraglacelle 3 c'era un barionnice di nome Rudy ed era il più cattivo di tutti gli altri dinosauri, ma fu sconfitto. Questo invece, se voi volete, potete anche aggiungervelo. Questo è il nono dinosauro. Poi c'è l'ottavo dinosauro, ma beh che sarebbe un rettile. Si chiama Sarcosucius, una specie di coccodrillo gigante che raggiungeva i 15 metri. Poi settimo dinosauro, un iguadonte. Non si è mai visto né la saga Jurassic, né Jurassic Park né nei Jurassic World. Si è solo visto nei documenti. Poi numero 6, come dinosauro. Il capro Sucius. Questa specie di ibrido tra il coccodrillo e il cinghiale non è stato creato dagli scienziati. È stato creato in natura, cioè metà cinghiale e metà coccodrillo. Poi c'è il Deinonychus. È un nuovo dinosauro che è nel Dominus Rex. Ovviamente, avete notato nelle braccia quelle specie di piume? Ed è di questo dinosauro che è stato creato nel Dominus Rex. Nel film di Jurassic World, ovviamente. Quarto, non è un dinosauro ma è un mammifero. Lo Smilodonte. E questo è un nuovo animale, nel Jurassic World 3. Se lo volete aggiungere o volete aggiungere qualcos'altro, io vi suggerisco queste idee anche a voi registi che create i film. Poi qua c'è un nuovo dinosauro ed è il più grande di tutti i dinosauri. Nifocus si è sentito parlare del Supersauro, un dinosauro molto grande che cresceva molto in fretta quando mangiava ogni volta delle foglie. Ma questo animale si estinse subito nell'era dei dinosauri. E sarebbe il terzo, come secondo dinosauro, che non sarebbe un dinosauro ma un altro rettile mostruoso, è il Titanoboa. Ed è il secondo di Jurassic World 3. Il secondo dinosauro nel film di Jurassic World 3, se lo volete aggiungere voi registi. E anche voi ragazzi. Poi l'ultimo di tutti è sempre il T-Rex, ma è diverso stavolta. C'è scritto T-Rex e è sempre quello il T-Rex, perché è lui il protagonista del film. Non vince nessun altro dinosauro che abbia tre artigni. Lui purtroppo è forte ed è anche un predatore. Jurassic World 3. Mi raccomando ragazzi, al cinema 2021, cioè fra tre anni, uscirà 2021, 21 giugno, al cinema. Poi uscirà nei DVD, ovviamente, dopo un paio di giorni, che le persone hanno visto il film nel cinema e uscirà nei DVD. Però dobbiamo aspettare tre anni per uscire il terzo capitolo di Jurassic World. E' stato di gradimento, questo trailer. Ricordatevi ragazzi, fra tre anni il film uscirà al cinema, 21 di giugno, cioè d'estate, nella stagione che entra l'estate. Che mi raccomando, lasciate like se riesco a caricare in tempo questo video o farò Jurassic World il gioco oppure farò Jurassic World 2 il gioco. quello sui quiz e sbloccare i dinosauri. Fare domande e così via. E se riesco a caricarlo, ok? Non si sa quale dei due farò, ok? Mi raccomando, lasciate like, visualizzazioni, mandate commenti in YouTube, come altre volte che alcuni mi mandano anche in YouTube, e in Facebook anche potete mandarmi i commenti. Il mio account è sempre BiagioSapuppo. Questo qui. Questa è la mia faccia in Facebook. Questa qui. Scrivete in Facebook se volete fare amicizie con me. È BiagioSapuppo. E vedete questa foto. Questa qui. E sono io. Quello è il mio profilo, mi Facebook. Grazie, spero tanto che il video dei nuovi dinosauri su Jurassic World 3 e se vi siano piaciute iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi e ci vediamo domani oppure se riesco a caricare in tempo il video o farò Jurassic World e gioco oppure Jurassic World 2 e gioco. Non si sa. E ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi anche.